Kira non parla E basta Ok Detto questo ci apprestiamo a ricominciare Dove avevamo fatto tutto Io come avete visto sono morto un casino di volte E Kira poi siamo morti Rimorti e rimorti Abbiamo perso tutto o quasi Comunque fin troppe cose Questa è la roba che aveva Kira Così vedete anche questo Vediamo Hai tu dei granelli? Si ok D'accordo Possiamo scegliere La zona Occhio Possiamo scegliere La zona Dove farci La casa Coltivazione Ok E con questo Quindi se possiamo scegliere la zona Poi andiamo E facciamo tutto velocemente Che parlare da solo Mi dispiace Quindi Grazie per seguirci in questa puntata Io volevo andare dal lato opposto E Alla prossima Ma con l'etena No No Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.